Tutte le persone che a quell'epoca frequentavano questo ambiente, tra cui anche una che faceva parte della commissione Mitrochini, e io ho dato la mia parola che non l'avrei rivelata, la persona, ma il fatto sì, è un fatto questo qui. Quindi la notorietà di questo fatto consiste anche, perché poi uno deve usare delle cartine di sottornasole, molte volte le cose che io ho affermato sono state almeno formalmente smentite, è capitato, non molte volte, ma alcune volte. Su questa vicenda che l'istituto Plekanov fosse una branca del KGB e che Nomisma facesse corsi al personale sovietico, era KGB, non è che ce ne fosse dell'altro, il personale sovietico era tutto quanto KGB, perché il KGB non era un servizio segreto, era anche un servizio segreto, non era neppure soltanto una polizia segreta come la Gestapo, quelli che di notte ti vengono a prelevare e ti portano via per torturarti, insomma, anche questo, ma non solo questo, ma era la gestione complessa dello Stato secondo le direttive del Politburo, del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, e di fatti la storia dell'Unione Sovietica sotto questo aspetto, io poi l'ho ristudiata e studiata accuratamente, è stata una storia molto conflittuale tra il partito e il KGB, in cui il conflitto, ci sono stati momenti di intersecazione, per esempio quando il capo del KGB, Andropov, diventò segretario generale del partito comunista, quando, a proposito di Gorbaciov, l'altra volta ci siamo lasciati, ma anche Gorbaciov, e capisco che Gorbaciov, toccare Gorbaciov è come toccare i canibaldi, ma Gorbaciov è una creatura intelligente, perché il KGB è stato tra l'altro una struttura di assoluta sofisticazione, di altissimo livello di sofisticazione, tutte le analisi, anche generalmente sbagliate, perché poi le analisi economiche del KGB e del Segur Belgrano erano disastrose, hanno fatto fallire l'economia sovietica, ma è provato storicamente, dalla cronologia dei fatti, che Gorbaciov fu selezionato come successore di Cernienko, perché Cernienko fu l'ultimo burogramma, come quando si fa un papa vecchio e stanco, perché si chiama il papa di transizione, diceva che quanti anni ha, 83, va bene, allora facciamo lui, intanto prepariamo il papa vero, insomma. E quindi questo fu fatto anche allora e fu selezionato con molta intelligenza questo astro nascente nel partito che era Mikhail Gorbaciov, che oltretutto aveva, cosa inusitata per la Unione Sovietica, una moglie presentabile, attraente, elegante, che parlava le lingue e che poteva portare in giro per il mondo, lui stesso non era un vecchio decrepito panzone come Brezhnev. Diciamo, ci fu fatta una selezione anche sotto questo aspetto molto... lì c'è una storia che non riguarda più la Commissione Mitrogli, riguarda la storia della Russia, ma che si intersega perché da quello che io ho capito, l'ho capito dai libri, sono stati scritti fiumi di libri su questo tema, nessuno dei quali tradotto in italiano, bisogna andarsela a leggere in inglese. Quando l'Unione Sovietica negli anni Ottanta si rese conto che il comunismo non aveva più prospettive e che la Russia Sovietica in quanto centrale del comunismo non aveva delle possibilità ulteriori di ampliamento, che si erano sviluppate negli anni Settanta in modo clamoroso, perché l'Unione Sovietica controllava metà dell'Africa, tutta l'Asia, una gran parte dell'America Latina, quindi aveva raggiunto un punto di massimo successo che era la controparte del momento di massimo insuccesso degli Stati Uniti. La sconfitta nel Vietnam, il Watergate, lo scandalo, l'isolazionismo americano, perché gli americani ormai non ne volevano più sapere di Europa, di guerra fredda, di guerra in generale, e quindi l'America si era contratta in un neo-isolazionismo quasi nichilista, separatista nei confronti dell'Europa e fu quello il momento del massimo sforzo militare sovietico che, come sappiamo adesso dai famosi verbali delle riunioni del patto di Versailles, verbali che si trovano su internet, io ho comprato, si possono comprare anche un volume, questo volume che si chiama A Karbor Castle, che ho già citato, un castello di Cattuola, ed è la raccolta di questi verbali. Loro hanno tentato fino a Gorbachev l'ipotesi di un colpo militare che avrebbe dovuto non coinvolgere l'Unione Sovietica in un conflitto stellare con gli Stati Uniti, ma semplicemente espellere gli Stati Uniti con un trauma dall'Europa, sapendo che gli Stati Uniti non avrebbero per questo fatto la guerra di sterminio totale intercontinentale, ma avrebbero fatto più o meno buon viso a cattivo gioco. Su questa ipotesi bellica l'Unione Sovietica si era svenata e aveva speso tutte le sue risorse tenendo in piedi un'armata come non si ne sono mai viste nella storia dell'umanità, ma priva di tecnologia, per cui erano sempre un passo avanti, anzi 100 passi avanti rispetto all'Occidente quanto a milioni di uomini in armi, ma 10 passi indietro rispetto a far funzionare l'elettronica. Di fatti questa è una storia che si intersega anche con il Medio Oriente, la guerra di Yom Kippur, loro avevano preparato gli egiziani per fare questo attacco a Israele con la loro migliore armi, con i loro migliori ufficiali, i loro migliori carri armati e di fatti fu una guerra micidiale in cui inizialmente gli egiziani travolsero gli israeliani e vinsero, ma poi persero perché gli israeliani, oltre al loro temperamento particolarmente creativo durante le operazioni di guerra, avevano delle comunicazioni radio che gli permisero proprio ad Ariel Sharon di sfondare le linee e passare. E fu, poi abbiamo imparato in quell'occasione, che i sovietici dissero non si può, non siamo pronti per fare una guerra, la perdiamo. E questo fatto portò a una maturazione politica del fatto che l'Unione Sovietica, il comunismo non funzionava, l'ipotesi militare non aveva sbocco, l'economia crollava, bisogna pensarne un'altra e fu allora che fu concepito un intelligentissimo, geniale riciclaggio dell'Unione Sovietica proprio in un nuovo tipo di nazione, passando, diciamo, e su questo c'è un famoso articolo di Gorbachev sull'Esvestia, in cui spiegò, e lo spiegò, mi pare, nell'82, non era ancora segretario generale, disse proprio dobbiamo passare all'ecologismo, dobbiamo passare alle agenzie delle Nazioni Unite, e fu preparato tutto questo riciclaggio che avrebbe dovuto presentare una nuova Unione Sovietica, e lì il libro di Bukowski, volta ad allearsi con l'Unione Europea che nel frattempo stava nascendo, sempre con il proposito di esercitare un'egemonia di pressione o anche, come accade oggi, di egemonia per esempio dal punto di vista energetico, e però avendo, perché il motivo per cui loro volevano possessarsi dell'Europa occidentale era avere la tecnologia occidentale, non sono mai riusciti a produrre una tecnologia competitiva. Gorbachev è l'uomo selezionato per questo processo, lo portò a termine, ma, come succede sempre nelle vicende umane, anche i migliori piani poi presentano delle pecche, e la pecca che presentò questo piano fu un colpo di Stato nel 1991, contro Gorbachev, che fu uno strano colpo di Stato, qualcuno ha detto un autocolpo di Stato, certamente le strutture del KGB più tradizionaliste, non volero accompagnare la perestroica, la glasnost, che erano delle creature inventate appunto dall'era Gorbachev, e durante questo colpo di Stato, tornando a Prodi, Prodi, in una intervista del 21 agosto del 1991, mentre era in corso questo colpo di Stato a Mosca e tutto il mondo, io mi ricordo la mia angoscia, perché ci eravamo liberati, diciamo, con Gorbachev di un tipo di comunismo aggressivo da guerra fredda, eravamo tutti lì festosi di questa novità di una Unione Sovietica pacifica e ragionevole,